Nel 1962, a pochi anni, pochissimi anni dall'uscita della Seconda Guerra Mondiale, si è rischiato un terzo conflitto mondiale atomico questa volta. Che cosa è successo? È successo che i russi, con Khrushchev, nell'intento dichiarato di difendere Cuba da un'eventuale aggressione americana, avevano deciso di far traslocare a Cuba un arsenale atomico. Cuba sta a un passo, a un tiro di schioppo dagli Stati Uniti. Potevano accettarlo gli Stati Uniti? Non potevano. Ecco, ma queste armi atomiche erano già in viaggio verso Cuba e Kennedy, presidente degli Stati Uniti, ha detto no. Che facevano queste navi? Si fermavano, tornavano indietro o andavano avanti? Il conflitto mondiale era molto vicino. Orrendo conflitto mondiale. E qua? Pochi sanno. Ma lo racconta, me l'ha raccontato Ettore Bernabei, questo grandissimo democristiano, grandissimo cattolico, una personalità molto influente del secondo dopoguerra italiano. Me l'ha raccontato e l'ho letto poi in un libro bellissimo che ha scritto L'Uomo di Fiducia. In realtà questa questione è stata interrotta grazie a che cosa? La guerra è stata fermata grazie a che cosa? Grazie all'ingegno di alcuni cattolici, cioè Fanfani, il suo caro amico Bernabei e il papa Giovanni XXIII. Questi tre insieme hanno organizzato le cose in modo tale che americani da una parte, ma soprattutto in primo luogo americani e russi in seconda battuta, hanno potuto accettare un compromesso. Qual era il compromesso? Che i missili atomici se ne tornavano indietro verso l'Unione Sovietica. In cambio però gli americani accettavano di ritirare da alcune basi italiane in Puglia delle testate atomiche, cioè hanno fatto una specie di bilanciamento. Certo questo bilanciamento andava tutto a favore degli Stati Uniti perché era molto più preoccupante per l'America che non fosse per la Russia quelle testate che erano in Puglia. Era molto più preoccupante per l'America un'aggressione a due passi di casa come poteva essere da parte di Fidel Castro l'uso di testate atomiche. Ecco forse questa vicenda ci ricorda di un passato in cui la nostra nazione che era cattolica era governata da cattolici finalmente dopo la massoneria che l'aveva invasa con l'unità d'Italia e fino praticamente a tutta la dittatura di Mussolini. Finalmente la popolazione italiana aveva espresso le sue elite cattoliche e queste elite cattoliche come fra l'altro Mattei, Mattei è morto perché ha difeso la possibilità dell'Italia di avere petrolio, di trovare, concordare con altre nazioni arabe la possibilità di avere noi petrolio, noi che non abbiamo materie prime. Finita questa elite cattolica certo adesso abbiamo avuto negli ultimi decenni un'elite di altro orientamento che si è preoccupata delle riserve, dell'energia che potevamo avere. No assolutamente, no assolutamente che si è preoccupata del DDL ZAN adesso, dell'eutanasia, dei diritti LGBTQ, di tutti questi diritti in concomitanza stretta con l'Unione Europea d'altronde e anche con l'ONU. Purtroppo sono cambiati i tempi ma certo se qualche risipiscenza si avvicinasse anche dalle nostre parti non sarebbe male.